ciao a tutti ben trovati a questo nuovo episodio del vibrafonista curioso che sarei io ma spero siate anche voi se siete vibrafonisti e quindi andiamo a conoscere un altro esponente di questo tipo di strumento e non solo perché fa anche molte altre cose connesse con questa attività e siamo assieme a Cristiano Pomante benvenuto Cristiano grazie per la tua presenza grazie a te iniziamo subito a conoscerlo e vediamo come si è formato come musicista magari ci racconterà qualcosa della sua formazione della sua vita anche perché mi sembra di capire che in qualità di figlio d'arte abbia delle belle cose da raccontarci sì diciamo che il mio percorso formativo è stato un quello che credo sia stato di tutti i vibrafonisti che appunto hanno iniziato a studiare con le percussioni classiche al conservatorio poi successivamente si sono avvicinate successivamente si sono avvicinate al vibrafono jazz questo è stato un po il mio percorso perché ho iniziato con le percussioni classiche e poi come appunto anticipavi tu avendo mio papà che è anche lui un percussionista ho conosciuto di riflesso il vibrafono jazz ascoltando i suoi dischi ascoltando i vinili che avevo a casa eccetera eccetera e ho iniziato un po da autodidatta a studiare le prime le prime cose imitando i vibrafonisti sui dischi che avevo che ascoltavo e poi successivamente mi sono trasferito qui a Milano e ho iniziato a studiare con Andrea Dulbecco che non ha bisogno di presentazioni e niente da lì poi ho iniziato a approfondire anche questo tipo di linguaggio fino ad oggi che posso avanti ancora e continuo a studiare tutti i giorni diciamo io arrivo da Pescara che è una città in Abruzzo una città di mare in Abruzzo dove c'è una grossa tradizione jazzistica perché c'è un festival uno dei festival storici italiani per Pescara Giardi dove da piccolo tra l'altro ho ascoltato tantissimi grandissimi musicisti tra i quali Pat Metin, Gary Barton ma ne ho ascoltati veramente di tutti Corea, Kei Jarrett ho ascoltato Dave Holland veramente ho tantissimi ricordi di quel festival come credo tantissimi dei miei compagni, amici che l'estate si nutrivano di questi festival e quindi c'è una grossa comunità di musicisti anche in Abruzzo bravissimi che in Italia sono tutti diciamo sono conoscitissimi che hanno respirato questa quest'area di jazz e niente lì appunto ho fatto il conservatorio però ho iniziato come musicista classico fino ai 18, 19, no fino ai 20 anni ho studiato lì ed ero convinto di voler fare il timpanista in orchestra avevo questo obiettivo poi come sempre credo che i musicisti come noi che forse per la natura stessa delle percussioni che essendo uno strumento comunque abbastanza complesso che per sua natura appunto ci porta a diversi contesti e diverse realtà musicali ci porta anche un po' a interrogarci per quale potrebbe essere la nostra persona musicale o la nostra strada professionale e quindi io di riflesso in quel periodo mi ricordo conoscendo il jazz avvicinandomi al vibrafono anche suonavo la batteria eccetera eccetera ho iniziato anche a interrogarmi su cosa realmente mi piacesse quindi ho iniziato a spostare il focus dallo strumento alla mia personalità alla mia identità artistica e a quello che veramente potesse rappresentarmi e così ho piano piano sviluppato sempre di più questa passione per il jazz che poi ha trovato questo sfogo sul vibrafono ma in realtà ancora oggi il mio percorso ha subito delle modificazioni mitinere e così sono andato un po' a ricercare quelle cose che sempre di più potessero rappresentare meglio quello che sento io come personalità musicale diciamo sì Tra l'altro so che studi anche composizione quindi mi viene da chiederti se nel tuo percorso hai avuto esperienze anche con altri strumenti di altro tipo e se ti piace l'idea di conoscere altri strumenti sia per la composizione ma anche per l'esecuzione cioè fai anche delle attività con qualche altro strumento oppure ti sei specializzato proprio solo sul vibrafono? Allora con il tempo chiaramente come sappiamo chi suona gli strumenti a percussione a un certo punto poi deve un po' scegliere a meno che non si decida di essere un percussionista in orchestra che un bene umano un po' si suona tutto però diciamo chi come noi e io ho fatto questa scelta decide di un po' lasciare il mondo dell'orchestra a un certo punto fa una scelta sceglie di suonare o magari solo la batteria o solo il vibrafono quindi io con il tempo mi sono focalizzato completamente sulle percussioni a tastiera che sono oggi il mio strumento e poi ho sempre portato di pari passo lo studio del pianoforte ma questo perché come tanti di noi vibrafonisti sappiamo benissimo che lo studio del pianoforte ci aiuta ad avere una visione della musica che un po' trascende il nostro strumento poi e ci permette di guardare in un senso diverso musicale anche il vibrafono poi per quanto riguarda lo studio della composizione appunto come dicevo prima è stato un percorso che piano piano mi ha portato a scoprire realmente cosa per me significasse fare musica io mi ricordo anni fa facevo l'errore appunto di focalizzarmi troppo sullo strumento invece ho capito proprio che a un certo punto gli strumenti sono degli strumenti cioè è come la parola stessa ci dice e quindi spesso ci concentriamo sui mezzi ma non abbiamo un reale scopo e io invece ho invertito il mio punto di vista ho iniziato a dire ma i miei scopi quali sono e quali sono i mezzi che mi servono per raggiungere i miei scopi e come devo diciamo usare questi mezzi per raggiungerli e i miei scopi ho visto che erano più ampi del vibrafono avevo una visione musicale che almeno adesso arrivato a questo punto della mia diciamo del mio percorso mi sembra sia più stratificata la mia idea di musica e quindi la composizione che è una cosa che ho sempre portato di pari passo prima da un po' da... la facevo così per gioco mi ricordo quando ero ragazzino mi sedevo a tenofotte 16 a 17 suonavo, improvvisavo i miei primi pezzi e lì magari mi tiravo di uno però non avevo la benché minima idea di che cosa significasse realmente concepire una musica in funzione di una forma in funzione di strumenti specifici che potessero realizzare poi la mia idea strutturale di musica e questo con il tempo pian piano si è andato fortificando questo pensiero fino a portarmi prima a approfondire lo studio della composizione d'autoridata poi da intraprendere questo percorso Ti interrompo, scusami, hai toccato proprio un tassello che volevo chiederti mi hai anticipato, volevo farti proprio una domanda su questa cosa allora ne approfitto mi chiedevo per te che importanza avesse a questo punto del tuo percorso la forma cioè qual è il senso della forma per te in campo musicale perché avendo avuto questo background con tutti quegli ascolti con tutti quegli stimoli anche dal vivo e poi avendo avuto la possibilità di fare questa introspezione secondo me il risultato è molto interessante vorrei che ce ne parlassi allora questa è una domanda molto difficile perché quando si parla di forma si parla di qualcosa dal mio punto di vista che non è definito la forma si definisce strada facendo anche quando un compositore scrive magari parte con un'idea di base chiaramente che è quella di una macrostruttura quella di scegliere degli strumenti e diciamo a grandi linee di utilizzarli in un certo modo poi in itinere a seconda degli argomenti extra musicali che il compositore vuole comunicare allora gli strumenti si iniziano a manipolare quindi di conseguenza la forma cambia noi siamo abituati a utilizzare delle forme prestabilite quando suoniamo viene in mente lo standard la forma canzone l'anatolo il blues sono forme prestabilite dove noi ci muoviamo impariamo a muoverci invece di usare una forma e manipolare una forma per raggiungere poi qualcosa che comunicativamente sia al contrario dal punto di vista musicale penso sia più difficile e quindi quello che il compositore deve fare ma anche lo strumentista quando suona perché per me scrivere un brano è come quando improvviso è come se avesse un grosso bagaglio dove ho dentro delle cose e le prendo a seconda di quello che mi serve in quel momento o le lascio nel bagaglio è la stessa cosa per il compositore analizza, studia attraverso le partiture che sono come dei testamenti che i musicisti ci lasciano dove tu hai la possibilità di andare a vedere a livello orchestrale, a livello formale a livello semantico a livello contrapuntistico su tutti i livelli che vogliamo che cosa il compositore ha fatto e cercare di capire un po' come la sua forma si sia generata sia dal punto di vista superficiale che dal punto di vista interno questo è un po' poi il lavoro che faccio quindi prima di tutto lo studio parte dall'analisi l'analisi delle partiture e cercare di capire che cosa ha portato il musicista a fare quelle scelte perché ci sono delle scelte dei presupposti che mi viene in mente potrei fare tantissimi esempi adesso però mi viene in mente Mahler o mi viene in mente Mozart nulla è lasciato a caso cioè ogni strumento in quel punto preciso perché si vuole comunicare qualcosa di preciso il compositore era pienamente consapevole che lo strumento avrebbe reso quel suono in quel punto lì con quella orchestrazione lì con quel gesto orchestrale lì poi chiaramente nel caso di Mahler mi viene da dire la musica ha talmente tanti rimandi extramusicali tanti rimandi psicologici esistenziali tante finezze dal punto di vista orchestrale quando noi sentiamo un gesto può essere veramente la somma di una serie di finezze che lui sovrappone e quindi il gesto orchestrale è il risultante di una serie di piccoli elementi che sono stati messi lì con cura che chiaramente sono stati ottenuti con una grandissima esperienza e poi un grandissimo lavoro di artigianato dietro che non sto manco qui a dire insomma conosciamo il personaggio però quando tuniamo e quando improvvisiamo facciamo un po' la stessa cosa fondamentalmente cerchiamo di dare una forma alla nostra esecuzione alla nostra performance musicale scegliendo una vettorialità una direzionalità strumentale quindi scegliamo un argomento strutturale che può essere un'idea ritmica può essere un'idea dinamica può essere un'idea frasiologica e cerchiamo di mettere insieme questi elementi prendendo un po' attingendo i ricordi che abbiamo con il CTV degli ascolti dal vivo anche delle analisi che abbiamo fatto perché quando studiamo un solo di Charlie Parker o di Coltrane o di Miles o di Gary Bart o di Mike Manieri facciamo esattamente la stessa identica cosa quindi non parliamo tanto di un'estetica ma di un approccio formale questa è la risposta che mi sento di dire non esiste una forma esiste un approccio formale secondo me sì infatti questo aspetto a mio parere per quel che ho potuto ascoltare dei tuoi lavori si può sentire cioè tangibile se si ascoltano le tue prime registrazioni poi tu hai visto anche dal vivo e si ascolta il tuo ultimo lavoro di cui poi sicuramente parleremo questo aspetto si sente tantissimo è diventato secondo me molto efficace in questo tuo ultimo lavoro di cui poi parleremo a me personalmente è fastidio quando ascolto uno strumentista o un compositore un brano quando la musica non ha una vettorialità non ha una direzionalità questo non significa che sia un male un bene non sto a dire può essere che una musica parta con il presupposto di non avere nessuna direzionalità però dal mio punto di vista mi piace quando la musica ha un contatto narrativo frasiologico comunicativo c'è una continuità narrativa frasiologica non senti che c'è un racconto e quindi si parte da un punto per arrivare ad un altro punto o quantomeno ha dei presupposti che guidino un po' l'ascoltatore sempre perché l'ascoltatore secondo me deve un po' riconoscersi in quello che fa altrimenti si crea una chiusura e spesso succede in tutti i generi musicali e questo aspetto riguarda anche la parte tecnica perché come mi dicevi le tue scelte tecnico-strumentali sono sempre strettamente legate alla tua visione compositiva sì nel senso che con il tempo ho imparato a osservarmi da diversi punti di vista che è un po' quello che ci dicevamo prima anche quando suono o quando improvviso cerco sempre di mettermi in una situazione di partenza questo è un po' anche quello che spesso mi ricordo si diceva a lezione con Andrea datti un punto di partenza un obiettivo di riferimento questo è quello che faccio quando suono cercare di costruire qualcosa che non sia strettamente legato alla performance strumentale altrimenti succede che lo strumento non mi suona e non sono io che suono lo strumento quindi devo essere sempre io presente con la testa in quello che faccio questo significa anche avere il coraggio di fare delle scelte che magari anni fa non avrei mai fatto cioè non faccio il solo non suono per due chorus suono due bacchette e suono tutte note lunghe lo faccio apposta proprio cioè per cercare di proprio di scomodarmi non so come dire di mettermi in una condizione che non è la mia condizione naturale ma questo non perché devo devo fare il il fricchettone diciamo così semplicemente perché secondo me un bravo strumentista deve mettersi in gioco deve cercare deve sperimentare sullo strumento e questo per me significa improvvisare non significa donare una frase soltanto di Parker o di o fare un solo che ne so incredibile con una pronuncia blues pazzesca anche questo per me significa improvvisare ho imparato con il tempo a darmi queste chance anche no e quindi spesso succede che nei live o anche quando studio a casa inizio a fare esercizi che cercano di mirare un determinato argomento musicale proprio e questo da questo punto di vista devo ringraziare anche Ramberto Ciamaruchi che è un grandissimo pianista jazz traconosciuto in Italia con cui ho avuto il piacere di studiare per tanti anni facevamo proprio questi esercizi mi ricordo cioè che cosa vuoi comunicare a chi lo vuoi comunicare quando suoni e come lo vuoi comunicare si sente quando un musicista è presente con la testa e sa che cosa sta facendo e perché lo vuole fare e perché sta scegliendo quei mezzi per farlo ed è veramente convincente quando lo fa spesso invece noi cadiamo in delle strutture prestabilite che utilizziamo perché ce le abbiamo sotto mano e le suoniamo così un po' abusandone anche allora wow faccio un double sticking sul sul vibrafono perché mi piace e voglio fare delle scale veloci faccio un esempio banalissimo giusto per rendere l'idea no invece a quel punto devi devi fare un percorso che è più più interiore dove ti metti un po' alla prova e cerchi anche di capire cos'è che realmente ti appartiene quando suoni che ti rende efficace questo mi serve questo mi serve quando suono che la mia musica sia efficace non che sia bella brutta o quello lo diranno le altre persone non lo so ognuno lo filtra dal proprio punto di vista però se la musica è efficace questa è una mia responsabilità lo vivo con una grande responsabilità questo discorso non so se è stato chiaro quello sei stato molto chiaro tra l'altro sono più o meno gli stessi concetti che anch'io ho scritto nel mio metodo all'inizio proprio per per dare l'importanza della musica come veicolo di una presenza deve esserci qualcuno quindi lo strumento come strumento ma anche la forma come strumento per esprimersi sempre in divenire chiaramente dicevo questo passa secondo me attraverso degli argomenti specifici degli strumenti appunto quello che dicevamo prima c'è lo strumento che veicola uno scopo e quindi bisogna conoscere gli strumenti bisogna conoscere gli strumenti e perché scegliamo quegli strumenti noi viviamo in un contesto musicale vecchissimo cioè partiamo oggi un ragazzino parte a 12 anni che trova su youtube duemila cose le scopre ma non non le sente realmente dentro non sente il peso della storia dentro anche questo è un po' il senso del fatto che io ho deciso di studiare composizione il fatto di avvicinarmi storicamente con quegli argomenti storici proprio di cui la musica si nutre e che collegano poi le diverse estetiche e diversi generi perché la forma canzone la trovi anche in dei preludi di Chopin cioè è un esempio banale questo o nella musica di Bach si fa spesso questo ragionamento Bach è il primo jazzista qua, tu e giù ma perché? cioè andiamo a vedere che cosa significa questa cosa cioè in che senso come scrive come funziona la forma che significa la fioritura in Bach nella musica barocca che significa l'imitazione che significa la progressione cioè che sono concetti che noi jazzisti conosciamo bene imitazione progressione eccetera eccetera c'è fioritura perché alla fine l'improvvisazione è una fioritura di linee guida che noi scegliamo non lo so viene da dire questo secondo me uno deve fare questa ricerca storica per fare propri questi strumenti questi mezzi scusami ma ci tenevo a sottolineare questo argomento hai fatto benissimo allora adesso direi che potremmo dedicare la parte finale della tua intervista proprio in maniera specifica al tuo progetto che uscirà il 13 novembre se non sbaglio dal titolo Libero Pensatore quindi già il titolo mi piace e per questo motivo vorrei proprio sviscerare tutti gli aspetti cioè puoi raccontarci come è nato come l'hai composto proprio anche i dettagli tecnici come hai scritto le prime idee come le hai rielaborate e come poi sei arrivato ai tre giorni di registrazione giusto tre giorni mi dicevi con questo mix master impegnativo insomma raccontaci tutto sul tuo progetto Libero Pensatore allora il titolo già la dice lunga per certi versi perché è il titolo che io ho trovato più adatto per esprimere un po' questa mia filosofia di vita perché per me la musica veramente rappresenta la vita il mio approccio alle cose che può sembrare banale ma non lo è perché per me non è solo un lavoro sono un specchio di me stesso del mio approccio alle cose ci tengo a sottolinearlo questo perché poi quando lo suoniamo dobbiamo comunicarlo questo a chi ci ascolta altrimenti non siamo veri siamo delle macchine che fanno delle cose non so come dire e quindi questo titolo rappresenta un po' quale approccio l'idea appunto di mettersi sotto più punti di vista che sia un approccio artistico cioè avvero prendere delle strutture utilizzarle in un determinato momento poi abbandonarle per sceglierne delle altre un libero pensatore secondo me è una persona che è in continua ricerca che costruisce che distrugge che non ha certezze in questo senso e cerca un po' di non di andare contro qualcosa perché non è un essere liberi contro un'ideologia è una dichiarazione artistica la mia mettiamo a così un tipo di approccio appunto alle cose e l'approccio secondo me vincente è proprio questo quello di avere il coraggio di fare delle scelte e di andare a ricercare degli strumenti e dei mezzi per fare queste scelte detto proprio in parole poverissime che è un po' quello che io ho cercato di fare in questo progetto in un progetto di nove persone dove cerco di far convivere tanti strumenti insieme e non è semplice questo se si vuole farlo con una certa coerenza artigianale perché c'è il pianoforte nel progetto c'è il vibrafono c'è la chitarra che sono tutti strumenti armonici c'è un quartetto d'arti quindi è un gioco di equilibri è un rischio da questo punto di vista bisogna vedere l'organico sotto l'aspetto quindi sotto diciamo da questo profilo l'organico non suona mai tutto insieme cioè ci sono dei punti in cui ci sono solo gli acchi c'è un punto in cui si suona in trio punti in cui si suona in quartetto è come quando si usa l'orchestra da camera no? è una piccola orchestra da camera gli strumenti sono sia solisti ma anche suonano tutti insieme in determinati punti e quindi il primo ragionamento che ho fatto è stato quello appunto sull'orchestrazione sul sound per me il suono si traduce prima in tutto in timbro e il timbro come dicevo prima può essere la sovrapposizione di più argomenti che sono non solo strumentali con la scelta di alcuni strumenti specifici che appartengono ad alcune famiglie ma può essere anche una scelta di un accordo può essere anche la scelta di ritmo può essere anche la scelta di un approccio strumentale no? è come quando sentiamo non lo so Bill Evans a Tianaforte cavolo i suoi voicing sono suoi non lo so perché perché lui suona in quel modo lì gli usa con quell'approccio lì sul pianoforte che è suo o come quando senti che già c'è un suo suono un suo sound che è fatto di tutte queste scelte quindi quando ho iniziato a pensare questo progetto io pensavo a queste cose voglio creare un gruppo che abbia un mio sound e quali sono gli strumenti con quale timbro lo voglio fare con quali argomenti compositivi lo voglio fare e così è nato questo progetto che ha sia quei presupposti extramusicali di cui parlavo prima ma anche un po' dei presupposti musicali che ho descritto adesso e poi niente le composizioni sono chiaramente tutte delle piccole sfide che mi sono dato perché parto da dei piccoli argomenti compositivi e poi cerco di svilupparli non non mi sono seduto al pianoforte come facciamo prima a mi faccio trarre dall'ispirazione ci mettevo sei mesi per scrivere un pezzo a spremermi il cervello per cercare di trovare le soluzioni giuste che mi suonassero giuste all'oretto qui ho lavorato diciamo con un approccio un po' più professionale e poi ho iniziato di pari passo a acquisire con lo studio per esempio il primo brano Point of Pure lavoro su una cellula di una battuta che sviluppo durante tutto il brano ed è sempre quella stessa cellula è un po' una sorta di diciamo citazione al mondo della musica parocca battiana come succede nella fuga nelle invenzioni appunto si prende il soggetto si allunga come se fosse un elastico si capovolge si sviluppa questo materiale in tutte le salse possibili sia dal punto di vista motivico l'ho fatto sia dal punto di vista armonico che dal punto di vista ritmico perché ci sono delle idee ritmiche precise che io potendo sviluppo dello spazio in un certo modo in altri brani per esempio scelgo altri argomenti compositivi in Art of Being Fragile per esempio ho scelto più di utilizzare delle tecniche legate al modo della musica contemporanea quindi gli arti lavorano un po' sugli armonici c'è il vibrafono preparato in altri pezzi c'è il pianoforte preparato quindi mi focalizzo di più sul timbro come studio come ricerca del suono quindi magari di far suonare il vibrafono preparato con gli arti in un certo modo per cercare di creare una sorta di coerenza di illusione uditiva non so come chiamarla no? e insomma in ogni pezzo c'è un argomento più preciso che io sviluppo da questo punto di vista dunque il progetto discografico chiamiamolo così si focalizza su lo studio di argomenti musicali non tanto sulla performance strumentale poi sì ci sono magari dei pezzi dove mi sono dedicato al solo o dove mi sono dedicato ma anche il solo io lo intendo come una parte strutturale del brano che è pensato in un punto preciso e lo strumentista deve rendere un solo che sia strettamente collegato alla macro struttura e che sia legato all'eponomia poi finale del brano non so se spiego l'idea questo è stato il lavoro che abbiamo fatto e andati in studio di registrazione era tutto chiarissimo nei primi due giorni abbiamo registrato soltanto il diciamo il gruppo senza gli archi e poi per motivi tecnici l'ultimo giorno gli archi hanno sovraincito su le loro parti che erano tutte quante scritte diciamo e lì ho potuto fare un lavoro di profilo cercando di dare quel respiro quella tranquillità strumentale che gli archi devono avere per natura stessa del loro strumento cercando di creare poi questo impasto musicale finale diciamo non è stato facile sicuramente ci sono dei problemi ancora nell'organico perché è difficile poi rendere efficace qualcosa che ha di base tutti questi argomenti strutturali io la penso un po' così e la mia idea di partenza era proprio questo rendere una semplice complessità scusami il gioco di parole creare qualcosa che fosse artigianalmente ben strutturato ben concepito ben scritto che però fosse fruibile che fosse arrivabile il più possibile all'ascoltatore no? posso chiederti una cosa riguardo invece alla formazione perché mi sembra di ricordare che in questo nuovo lavoro ci sia comunque ancora il tuo quartetto di base più altri strumentisti come è stata la relazione con loro come ti sei trovato e come avete lavorato se puoi anche presentarci questi musicisti certo allora il mio quartetto iniziale cioè iniziale il mio quartetto che si è formato nell'illuminazione 13 con Michele Tacchi Alessandro Rossi e Marco Giangrandi aveva quel sound tipico un po' dei dischi che abbiamo sentito di Gary Barton Fatme Kee insomma l'impasto di Tara di Braff con un impasto che ormai conosciamo bene questo progetto è poi stata è stata l'evoluzione di questo quartetto proprio perché io mi sono posto quei coesiti di cui parlavamo prima cioè che sound vuoi cercavo una profondità prospettica anche nella musica è come quando tu faccio un esempio che chiaramente è lontano da me 3.000 anni luce però è come quando senti la musica di Wagner è una musica stratificata è come se ci fossero dei personaggi che escono di scena che entrano di scena che sono in primo in secondo in terzo piano immaginavo un po' così la mia musica volevo una musica che avesse una profondità prospettica in questo senso e quindi sentivo di allargare l'organico e cosa ho fatto? ho detto con chi vuoi allargare l'organico? qual è il timbro che ti interessa? e sono sempre stato affascinato dagli archi perché sono degli strumenti che amo che credo siano strumenti con delle potenzialità pazzesche e così pian piano ho iniziato a cercare dei ragazzi e il quartetto d'arte che suona nel progetto li ho completamente trovati da solo cioè sono andato proprio a raccattarli per strada Alessio Cavalazzi il primo violino l'ho conosciuto una sera in un club che suonava con degli altri musicisti così ci sono fermati a parlare ma sai c'è un progetto vorresti suonare insomma così li ho raccolti io per strada ma così conoscevano e hanno iniziato a suonare insieme poi alla fine si è giunto proprio l'ultimo ingresso si è giunto Claudio Filippini al pianoforte che è un noto pianista jazz italiano anche perché sentivo di avere la necessità di uno strumento armonico un po' più complesso che avesse la forza ritmica e armonica del pianoforte che anche un po' mi permettesse di sganciarmi dalla visione strettamente strumentale del vibrafono non so è chiaro quello che voglio dire cioè permettermi di suonare scegliendo di incastrarmi compositivamente nei punti in cui voglio io e non di dover suonare sempre perché dobbiamo sostenere l'armonia dobbiamo sostenere tutto quanto che è quello che per esempio succede se suoniamo il vibrafono solo se suoniamo il duo il trio in qualche e così si è sviluppato questo nuovo profiletto e il 13 uscirà questo album che è un po' il risultato di questo lavoro benissimo ti ringrazio per questa tua intervista rimando tutti i nostri ascoltatori al 13 novembre perché vale veramente la pena di ascoltare questo nuovo lavoro di Cristiano io ho avuto la fortuna di ascoltarlo prima e quindi posso garantirvi che è un lavoro molto omogeneo compatto e veramente vi nutrirà lo spirito come tutti i bei lavori grazie Cristiano ciao a tutti grazie a te ciao grazie a te